ragazze buonasera si esce serata di ferragosto voi che fate noi stiamo facendo una passeggiata e poi andiamo a mangiare un boccone fuori credo la pizza ragazze guardate che meraviglia quest'ora il mare che cos'è stupendo e i colori guardate che colori stamattina al mare come al solito nonostante sia stata solamente un paio d'ore mi sono scottata sono troppo delicata ragazze troppo un paio d'ore al mare e mi sono scottata speriamo speriamo che non mi succeda nulla ah i tavoli là ci sono belli bello questo posto sembra un pontile ma no in realtà è no non credo belli quei tavoli lungo quel pontile sì no fish fish e restaurante sì no sì no sì no sì no sì no sì sì Ah vabbè per i fuochi d'artificio sicuramente Per i fuochi d'artificio sicuramente Sì 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 ma è bellissima l'acqua è un odio proprio sarà calda Per i fuochi d'artificio sicuramente Sì sì e noi proprio il tempo di farci un giro e ce ne andiamo No no sì caldo e casino Sì sì ma scusami ma è vietato è vietato fare i falò e mettere le tende Ah ok l'ombrellone quindi ci puoi stare in spiaggia L'importante è che non fai i falò e quindi non accendi i fuochi e non ti metti le tende Ah infatti c'è qualche tenda qui da campeggio Sì non so dependeranno pure la multa Ah quindi diciamo a mare ci puoi stare con l'ombrellone Mangi qua l'importante è che non fai i fuochi e che non dormi qua con la tenda da campeggio Non lo so ma il mira di massimo è questo Certo il bagno te lo puoi fare Certo il bagno te lo puoi fare L'importante è che non danneggi la natura Certo il bagno te lo puoi fare E poi più avanti c'è dove abbiamo mandato noi quello la cocorita giusto Ci sono tutti i fumi delle grigliate Ecco qua questa è la nostra pizzeria cocorita beach Sembra il 31 dicembre Sì sempre il 31 dicembre al contrario Quindi quello col freddo questo con il caldo Marzi dove sta andando? Il mondello sarà pure pieno Sì il mondello sarà pienissimo pure Vabbè tutte le spiagge saranno prese d'assalto Sì il mondello sarà pieno Capace è chiuso Questa è l'isola Questa è l'isola Il mondello è l'isola Capace è già chiuso Vedi? Sì 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 l'isola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti